ecco mi sembra che funzioni un po' più, un po' meglio e adesso sono a fare i nostri e i vostri grazie Paolo prego, Marco lo lascio la tua e lo quella ciao, ciao Vale, ci vediamo a Saxe, grazie ciao, un applauso a Paolo Bancramo vale, dove sei? vale, merita un saluto particolare la prima fila che è qua dalle 12.30 ciao a tutti, buongiorno, com'è, è caldo? è caldo? è caldo, eh? allora, dopo vengo, dopo vengo a darvi dei baci vale, un microfono per te, abbiamo scelto questo colore non so se va bene va bene, va bene, mi piace il giallo ce ne eravamo accorti regia, siamo pronti perché abbiamo tutto uno studio esatto, siamo pronti per coniugare insieme a Valentino Rossi quattro argomenti della Yamaka Fest di questa undicesima edizione e direi che possiamo iniziare dall'argomento che vede Valentino Rossi protagonista assoluto ed è il tema della sfida grazie a tutti